Nuovo progetto italiano 1, unità 2, F1 Silvia, dobbiamo parlare. Possiamo uscire uno di questi giorni? Lunedì, per esempio? Impossibile. Lunedì ho molto da fare. Allora, martedì mattina? No, sai che il martedì ho lezione all'università. Mercoledì? Purtroppo non posso. Ho un appuntamento. Giovedì? Cosa devi fare giovedì pomeriggio? Vado a fare spese insieme a Caterina. Allora possiamo uscire venerdì sera? Va bene. Ah no, venerdì è il compleanno di mio fratello. E sabato? Sabato possiamo parlare? Sabato no, di solito vado in montagna con le ragazze. Allora domenica prossima, o domenica o mai. Ah no, la domenica non ho voglia di parlare di cose serie.